E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi anche lunedì 23 maggio andiamo insieme a fare la nostra prete analisi tecnica legata ai mercati finanziari in particolar modo ai mercati delle criptovalute altra giornata in green, altra giornata che sta andando in positivo ma siamo di fronte a una resistenza molto importante, lo approfondiremo tra pochissimo come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse di vostro gradimento a me aiuta davvero tanto quel canale e se siete nuovi l'invito anche quello di iscrivervi col click sulla campanellina perché i contenuti che faccio sono prettamente time sensitive e quindi ormai me lo dite voi perché vedere i video subito è meglio che vederli già dopo qualche ora quindi mi raccomando. Detto ciò non perdiamo altro tempo, date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione e partiamo. Allora partiamo da un bitcoin che sta rispecchiando molto fedelmente quella che è l'analisi tecnica perché? Perché vedete bene come la media a 12 periodi daily stia affittando perfettamente il grafico ovvero abbiamo avuto resistenza qui il 20 maggio, ci abbiamo riprovato ieri resistenza e anche adesso se andate a vedere siamo andati a testarle, siamo nuovamente in resistenza è chiaro che su una resistenza continuare a spingerci sopra sicuramente va ad assorbire quella che è la supply che è presente in sell o comunque in short su quel livello là quindi comunque è un buon segnale ok? Però un segnale che secondo me è più dominante a parte i volumi che rimangono molto bassi sono i volumi decrescenti più una compressione che sta andando a verificarsi ok? Ora potete tracciarla un po' come volete, a me interessa principalmente farvi capire la direzionalità di una figura di questo genere ok? Ovviamente si tratta di una compressione triangolare che potrebbe andare poi a sfociare appunto in un pattern che potrebbe andare a rompere anche questi livelli qua il target di una potenziale rottura up è questo qui anche qua ragazzi non è da prendere come la bibbia ci serve come riferimento però una potenziale rottura up o down che sia potrebbe spararci direttamente sui 34 ok? Se lo trasliamo qui dove siamo adesso o tra oggi e domani potremmo andare esatto sempre comunque sui 34 34 e 2 potrebbe essere uno short squeeze anche abbastanza interessante abbastanza importante questo perché chiaramente tanti ordini in sale potrebbero essere liquidati in automatico fare un margin call per andare appunto a chiudere posizioni e quindi innescare un po' una miccia un fuoco che potrebbe spingerci a rialzo questo è molto interessante potrebbe andare anche in concomitanza con la prima settimana poi in green dopo appunto 8 settimane di fila negative e a livello settimanale in realtà stiamo andando comunque a delineare una sorta di leggero esaurimento anche dell'offerta un po' dalla settimana del 9 maggio dove abbiamo chiuso con una shadow nella zona bassa molto importante poi abbiamo avuto prosecuzione ma anche questa settimana qua ha avuto una shadow molto importante perché lo vedete il rapporto body shadow ve l'ho parlato anche nell'episodio appunto che vi ho fatto di questa mini serie di trading consapevole cosciente insomma per andare a cercare di individuare quelli che sono gli strumenti a noi utili per fare analisi e quindi potrebbe andare proprio in concomitanza vi dicevo a una prima settimana green che se chiudesse sui 34 quindi in questa zona qua potrebbe andare a dimostrare un po' di aggressività ma che vedete a livello settimanale non andrebbe a cambiare niente perché comunque avremo ancora la media mobile a 36 mila dollari la prima media mobile che la nostra 12 ema e quindi capite che non sarebbe ancora un segnale forte di ripresa settimanale sicuramente a livello daily si metterebbe in una condizione interessante perché andremo a creare comunque abbastanza spazio per provare il nostro cambio trend però a livello settimanale sarebbe ancora un po' prematuro ok spero che con questa view vi abbia un pochino dato qualche idea a riguardo poi chiaramente siete sempre voi che premette buy che premette sell quindi mi raccomando non fate copia in colla di quello che io dico posso tranquillamente sbagliarmi non ho la sfera di cristallo però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti per quello che riguarda invece la total market cap rimaniamo in una zona di range e anche qui vedete come la 12 stia facendo da resistenza e la dominance oggi sta leggermente correggendo quindi sta dimostrando un po' di flessione ma anche qui vedete che siamo comunque in un uptrend potrebbe questo essere un lower high quindi un massimo decrescente rispetto all'ultimo massimo che registriamo qua sì se andiamo però a perdere questo low quindi dovremo andare a ritestare la media 12 perderla e allora potremo andare poi a invertire la struttura e vedere buono spazio per le alcoin però vi vi ricordo sempre che in una condizione di mercato abbastanza incerta questo è un play comunque abbastanza rischioso che è esporsi nel coin ora può premiare assolutamente sì oggi stiamo vedendo al coin andare in doppia cifra lo stiamo vedendo su tanti nomi anche i nomi chiaramente che hanno perso maggiormente però sono situazioni interessanti così come è interessante valutare il nostro sempre benchmark di mercato soprattutto sul discorso al coin che è ethereum btc perché vedete che sta andando a recuperare la trend line di lungo periodo che non abbiamo mai perso da tanto tanto tempo perché parliamo che l'ultimo l'ultimo touch è stato l'anno scorso ok ne avevamo già discusso a riguardo però vedete che il prezzo ci sta provando e questo è un sintomo importante cioè chiudere al di sopra di questa trend line e proseguire e recuperare e fare sì che questo sia soltanto stato un fake down ok quindi non andare a confermare resistenza e scendere può essere un ottimo segnale per le alcoin quindi ethereum btc ci sta dicendo attenzione ragazzi sto cercando di reagire il più possibile sto cercando di buttare tutto quello che ho in questo momento per dire ok le alcoin non sono ancora spacciate però questo è un indicatore importante a mio parere da valutare e non ci sta dicendo che ce l'ha fatta ci sta provando ok chiudere al di sotto di questa media di questa trend line e confermarla come resistenza potrebbe portarci un'ulteriore correzione ok quindi questo sarà un parametro molto importante anche qua da valutare per quello che riguarda invece le alcoin molte stanno comunque performando bene anche un bnb che sta andando a recuperare lo vedete a livello daily in maniera abbastanza aggressiva perché dal suo bottom praticamente bnb con questa shadow è andato già a mettere un buon 52% quindi veramente un'ottima performance una delle alcoin di alta classifica più cariche in questa fase perché vedete ethereum dollaro è molto più scarica di bnb che sta andando a performare molto bene abbiamo visto anche atom andare di nuovo in una formazione molto interessante a mio parere su atom perché si sta creando anche qui ma l'avevo già parlato di atom se andate a vedere gli episodi precedenti anche qua prendetelo con le pinze però se andate a fare una trend line questa situazione qua è importante anche perché abbiamo una situazione qui vedete di bottom scusatemi di top che se riuscisse a bucare potrebbe anche qua innescarsi con un target importante perché anche qua se andiamo a prendere la base del triangolo più o meno potrebbe portarci nelle zone nelle zone dei 16 dollari ok in prossimità magari di questo primo punto di offerta però è ancora presto per dirlo ok però sono situazioni dei setup che è giusto monitorare per avere poi una visione più chiara degli entry point potenziali delle situazioni da dover o meglio più che da dover da mantenere osservate quindi io non voglio andare oltre perché la situazione che direi che è abbastanza chiara abbiamo visto un po' quello che si sta generando su bitcoin teniamo monitorato questa compressione che è una compressione molto forte che sta avvenendo sul prezzo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti noi ci vediamo domani mattina con il nostro classico morning with crypto dove approfondiremo le chiusure di oggi vedremo se si innescherà liquidità vedremo se appunto il prezzo reagirà oppure torneremo nella nostra formazione triangolare detto questo ancora una volta una buona giornata ma giornata più che altro serata a tutti ciao ragazzi